Sì, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo i primi due regali di Natale. Il primo è lui, il calcio di Pacific Rimap Rising Ciclidon. Ok, ho anche la fornicina bella, piccolissima, più di quella che io ho a scuola. E procediamo al spacchettamento. Qua c'è un po' di scotch. Vediamo qua. Ecco. Anche qua c'è un po' di scotch. Ecco. E anche qua c'è un po' di scotch. Ecco qua. Ok. Ecco ragazzi, il nostro caiglio. Leviamolo da questa carta. E' un po' di scotch. E' un po' di scotch. Allora, si possono muovere le pade, anche le mani. Mi piacciono molto le articolazioni. E' fatto anche molto bene. Le dimensioni. Le dimensioni. Le dimensioni sono fatte. E' un po' di scotch. Ecco. Aspetta. Ok. Questo è un po' di scotch. E' questo è lui. è fatta molto bene. Poi, Akugia. L'altro carico si chiama Akugia. Viene c'è un film di Gama. Grazie. Ascettate, ecco qua, tutte le parti. Grazie. Ascettate, qui abbiamo usato tutta la sua figaggine, da quattro zampe a da quattro zampe, da tre zampe. Bellissimo. Proviamo. Lina, aspettate, provo a farvelo vedere meglio. Ascettate, provo a farvelo vedere meglio. Ascettate, provo a farvelo vedere un po' difficile. È difficile perché c'è solo il filo metallico. Ci hanno messo il filo metallico, quindi è un po' difficile. Se si può fare, non so, però non ho dato un po'. Andiamo a ora faccio tutto. Qua c'è la forza, c'è la forza. No. Forse bene. Allora ce la fa. Fatta. Mentre vi faccio vedere un po' lui, Shree, che torna quanto è fatto bene. È troppo bello. A me piace che si possono muovere anche le code. Guardate quanto è fatto bene. Mi sta sembrando di parlare come un altro tizio che fa recensione su ste cose che ho visto. E questi erano due regali di Natale. Già l'hai fatta. A mente. Fai questo qua. Devi fare questo qua. Ed è fatto. Ecco qua. Abbiamo anche Akugia. Ok. Tenimi il telefono. Allora. Si muove la forma. Così. Poi si muove anche le gambe. Così. Poi abbiamo anche queste altre gambe. Anche le stesse tre le azioni. E poi abbiamo anche queste altre gambe di qua. Sono le stesse le azioni. E poi ci sono le stesse le azioni. stendiamo anche questa e questo è davanti anche la testa e la bocca eh si c'è l'articolazione ah si può aprire di più ah no ma era quella forse la bocca si apre di più e si chiude così ma bello mi piace non so dire quale mi è piaciuto di più tutti e due però allora questo qua i dettagli e le cose lo fanno sembrare più bello però anche quello a me piace tutti e due sono molto belli quindi beh qua abbiamo avete visto i miei due regali di Natale e possiamo concludere il video grazie 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 grazie